Coach, primi giorni di allenamento e allora la domanda credo che sia facile e spontanea, cosa hai visto, cosa ti ha impressionato magari da un punto di vista positivo e anche invece cosa hai detto è qui c'è da lavorare parecchio? No, ho visto una squadra con tanta voglia, ho visto gli occhioni aperti per la curiosità di apprendere un sistema diverso, ogni allenatore è il suo, ho visto tanta positività e speriamo di mantenerla questa positività anche durante le prime gare. Noi ci siamo subito chiesti quali saranno le tue scelte, soprattutto da un punto di vista proprio così filosofico, se la squadra è esperta, quindi con Juan Torene e Stankovic o magari rimettere al centro del villaggio, come si dice, i giovani Breme e Rinaldi, non so se ci abbia già qualche idea chiara in merito. Beh, guarda, oggi è un elemento molto importante, già la settimana lo è stata, noi ovviamente abbiamo un report statistico di quelle che sono le performance in allenamento e alla fine della settimana ovviamente guardiamo con un occhio molto interessato a quello che è stato il percorso settimanale dei giocatori e quello ci darà un'indicazione sulla formazione da mettere in campo. Quindi tradotto, chi è più in forma gioca e per la forma non è solo quella fisica ma è anche quella mentale. Tu nella conferenza stampa hai messo al centro del tuo ragionamento il discorso tecnico, bisogna giocare meglio a pallavolo, per farlo bisogna avere numeri, bisogna avere appunto tecnica. In questi primi giorni hai già individuato quel fondamentale che proprio tu citavi, che possa dare un po' di sicurezza, tranquillità, una pietra miliare sul quale costruire il futuro. Quello che piace a me è il muro, è chiaro che per migliorare in questo fondamentale ci vuole tempo, ci vuole tanto, 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 tanto lavoro. Stiamo lavorando in efficienza su tutti i fondamentali perché siamo performanti, ma in alcuni momenti sbagliamo troppo e quindi bisognerà concentrarsi ovviamente sull'attacco per giocare in situazioni di difficoltà delle scelte appropriate. Civitanova è una delle big del campionato, ha intrapreso un percorso forse simile a quello di Modena, no, di ringiovanimento, probabilmente con valori tecnici superiori. Che Civitanova ti aspetti? No, mi aspetto una Civitanova vogliosa di far punti perché la loro classifica ha bisogno, quindi non mi aspetto sconti, mi aspetto una partita dove loro partiranno molto aggressivi e noi dovremo essere bravi a avere la pazienza di reagire con la tecnica alle situazioni di difficoltà che ci proporranno. Da un punto emotivo, tuo personale, ma anche ai ragazzi, insomma cosa ti dirai prima di entrare in campo e cosa magari dirai a loro? Beh, dirò di dare il meglio anche individualmente, non solo come squadra perché si parla sempre di maglia, si parla di club, si parla di squadra, giustamente, giustamente, però credo che ognuno di noi quando entra nel campo debba giocare un po' anche per se stesso per trovare le motivazioni e soprattutto in questo caso la sicurezza per dare il meglio di quello che si può tecnicamente. Torni in Italia dopo un po' di anni e torni con la felpa, la divisa, e vai a Civitanova che forse è stata la piazza che più ti ha così consacrato, due scudetti, cosa significa tutto questo? No, bella sensazione, bella sensazione, prima cosa perché torno a casa subito e poi perché arrivo e trovo tanta gente, tanta gente che conosco ma dopo l'elemento della mattina siamo già concentrati per la gara. Che campionato italiano ritrovi, mi sembra da un po' che manchierà l'Italia, se sbaglio il 2018 Piacenza, che Superlega è e che Superlega ritrovi anche da un punto di vista esterna che la vedevi in ambito internazionale? Una Superlega di buon livello, di ottimo livello, direi, credo che le prime tre o quattro formazioni dell'otto siano veramente di altissimo livello, più che altro, la domanda è se all'estero si sono avvicinati, confermo che si sono avvicinati, quindi la Superlega è rimasta lì, solo che all'estero adesso ci stanno molto vicini. Qual è il primo obiettivo che ci hai dato accettando le proposte di Modena? Stare in campo, stare in campo contro tutte le squadre, anche quelle più forti, e giocarci la partita con dei canoni che siano quelli dell'efficienza, quindi ridurre il numero di errori proprio per rimanere punto su punto e giocarsi tutti i set. C'è qualcosa che hai trovato qui a Modena nei giocatori, nell'ambiente, nelle persone che magari non ti aspettavi di trovare, che ti ha stupito? O è come la Modena che ti aspettavi, sia come ambiente, sia come momento complicato? Ti devo dire la verità, è tutto come mi aspettavo, è una grossa organizzazione, ragazzi preparati a partire dallo staff tecnico, ma lo staff fisioterapico, insomma organizzazioni di alto livello, e c'è da riportare un po' di tranquillità qua, perché la qualità c'è. Grazie. Grazie.